Siamo nella zona delle piccole dune di Passo Scuro che qualche anno fa hanno iniziato a preservare tramite una staccionata. Oggi siamo venuti qua per fare una piccola sperimentazione che abbiamo avviato come ISPRA per la ricerca di frammenti di plastica molto piccoli che vengono comunemente chiamati microliter. Questi frammenti di plastica possono avere una doppia origine o risultare dalla degradazione della frammentazione di oggetti di plastica di dimensioni maggiori oppure possono essere già diciamo formati così come piccole sferule che vengono utilizzate dall'industria per le proprie produzioni.